non c'erano quindi usciamo e poi rientriamo non è che ci sono troppe mani si vabbè poi tu lo vedi che sei da lì o di un colpo zitti un colpo zitti un colpo zitti un colpo tocca il microfono meno di sotto ho mangiato un pomodoro apri le cose un attimo pederico scusa devo scordarci ci siamo vai ma chi è cammini cioccioliali toto niente di che non aveva fame il piccato come fai a non sapere non hanno parlato tanto tempo scusa se io manco un po' no quello sopra no soprattutto no no sotto sotto lì fino a lì va bene una cosa qui o no è una casa particolare sì molto particolare qua stavamo adesso io c'ho una bella stanza però grazie mamma grazie papà una bella manchettina scendo dalla finestra devi mettere un altro ciao ciao cazzo guarda la stella ok bene guarda una bella staglia di me io guardo questo io guardo qui è prova di Uriane sono qua con il bianco e il nero con il città è ma sta preso infatti come ormai lo vediamo di altri vi vedi proprio streghi incredibili io è l'ingredibile va bene diamo quasi diamo quasi provo questo come serve è vero si sta in quina pomodoro è che già fa no scusate non è però non è vero 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 mi piace mi piace questo grammo lo vuoi dare si ma non è vero ma guarda questo si si ok perfetto ma chi è sto buttello vale volano chi c'è facciamo va bene va bene fai i battuti da là si vede Rossella non l'aveva già detto tua madre in quella posizione non le faccio non le faccio cosa vediamo che male sei ti alzano sì non c'è che male si ok vediamo vediamo Alza un attimino? Siete lei? Sì! C'è lo strecchio Fai prova prova Faccio la prova? Ah vabbè Ok Motore Sì sei pronto? Motore Castelli E? Azione Aspetta che sta le sirene zitti di fuori Claudia! Oh guarda qualcosa Ma che cristiano signora mei Carmela Io vado di là Eh più Meno italiano più Carmela io vado di là Capitci tu Dico quale parte le vuole giuste Più siciliano Sì Vai Ma che cristiano signora mei Carmela Io vado di là Io vado di là Ma che cristiano signora mei Carmela Io vado di là Ma che cristiano signora mei Carmela Ma che cristiano signora mei Carmela io vado di là Faccio un po' di là Faccio un po' di là Ah, faccio Faccio E tutto Ma che cristiano signora mei Carmela io vado di là Faccio qualche altra cosa e mei C'è un po' di là Faccio un po' di là Faccio un po' di là Ma che cristiano Aspetta, 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 ma anche il cristiano, oh, vai. Ma anche il cristiano, signor e me. Carmela, io vado di là, faccio la piazza e poi mo' cocco. Capet. Scusa, 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 scusa. Non ti preoccupare. Io, 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 io. Se posso sapere che come nasci? Ma chi è sta faccia? Facci. Sta faccia, mi inizio. Sta faccia, sta inserendo il dialetto, vai. Se posso sapere che come nasci? Chi è sta faccia? No, no, no. Si stava divestito? Meglio, meglio, ok. Vai. Se posso sapere che come nasci? Chi è sta faccia? Parlo, un motto a desti. Niente, Giuseppe mi ha fermata e io per non farmi vedere sono scappata. Giuseppe mi ha fermata e io per non farmi vedere sono scappata. Avevo paura che mi vedeste papà. E se fai così? E tu capisci? E se servia? Avanti, oggi fai 18 anni. Ma ce l'ho fatto? E se fai così? E tu capisci se servia? Oggi è il tuo compleanno. Sorridi. Siedi da tavola e mancia. Non ti scantare che ha niente da fare. E poi ci scriviamo. Va bene mamma. Non ti girare. Ah, sì. Va bene. Va bene mamma. Va bene mamma. Ok, basta. Buongiorno a tutti. Siamo al... Non so, al settimo. Buongiorno a tutti. Siamo al quattordicesimo giorno di ripresa. E niente, vi voglio far vedere come praticamente si trasportano le cose nel mondo del cinema quando hai solamente una 600. E ovviamente il cofano è pieno. Ah, quello era là sopra, se ne è caduto. Comunque, vedete come siamo ridotti quando siamo stanchi dopo un po' di ripresa. Non abbiamo neanche la velocità mentale per parlare. Va bene, ciao. No, non ti stanchi però. No, non ti fai lo scatolo. Non ti fai lo scatolo. Così arrivo, ti stancho. No, non ti fai lo scatolo. Non ti fai lo scatolo, io ho il lavoro. Tanto vuoi? Allora, si ripreschia. Non ti fai lo scatolo, tu ti stai zitto, sei qua del ritardo. E ti stai muto e non parli più. Ma se hai del ritardo, lui non è, ma c'è una vaseggiata da bar. Sono stanco, sonno. Alla bar, non un caffè. Non è che mi diava lì, dai decimanini. Ascigliamo la stanza. Ma infatti, basta. Basta, basta di fare queste cose, le discussioni fa. La stanza è in prossima soluzione. La stanza è iniziata. Il moro di iniziano a portare tutti, iniziano ad arrivare i navi. Shhh, è pronto. Bastardi, i cani? I pani, no i cani. Eppure, non c'è un supermercato qua vicino. Aperto a quest'ora sicuro no. Un po' più avanti. Ci siamo? Per una bottiglia di vino ci siamo. Tre, due, uno, e... Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, ok. La stavo andando a prendere io. Guarda, non vedo più il cazzo. Poi gli è diventata una lappa più fumo. Non gli è lasciare un ricordo aperto. Però non mi posso fare. Tornando specchio quello di cello. Quale? Questa è la sigaretta. Questa è la terra. No, quella è la terra no. Vai. Prendi la sigaretta diretta a questo. Prendi la sigaretta pure tutto. Ehi, dobbiamente, ma come non lo so. Questo lo posso ancora. Se no lo avvicini tutto lì, al mobile, e lo anzi tutto a 3.000. Perché si vedeva solamente... Ma sul mobile? Si vado sul mobile? Però non trovo che troppo piccoli il mobile. In carcato. Ma prima, mettilo tutto vicino al mobile. Levi quelle cazzo di l'inche. Tutto vicino al mobile. E lo arzi. Così viene nascosto dal mobile. Ah, sì, sì, ok, ok. Lui è Fausto. Fausto Leale, no? Innocente. Il mio nome è Innocenti. Fausto Innocenti. Non voglio un cazzo cagato. Non voglio Fausto cagato. Non voglio un cazzo cagato. No voglio un cazzo cagato. Grazie a tutti